ci sintonizziamo con il dispositivo per lo sviluppo delle concentrazioni per la vita eterna per K1U percepiamo che il dispositivo è collegato alla struttura della vita eterna con la felicità infinita che è manifestata in tutto l'infinito se lavoriamo con un dispositivo online allora anche se percepiamo per esempio l'immagine del dispositivo però percepiamo anche quindi il dispositivo fisico vediamo questo dispositivo come il dispositivo fisico cerchiamo di di localizzarlo di percepire dove si trova e la felicità infinita del mondo che Dio ha creato dal momento della creazione del mondo tutto questo si focalizza in un unico centro che si trova per esempio nella piccola lente è un unico punto che si trova nella piccola lente e quindi vediamo che questo punto in realtà questo punto è un punto potentissimo per fare il controllo per l'intero mondo e noi da questo punto concentrandoci su esso sviluppiamo proprio quella realtà che ci osserve riveliamo quella realtà che ci serve è come se guardassimo anche dal futuro quindi per esempio guardiamo la lente però è come se anche guardassimo dal futuro e dal futuro vediamo com'è il mondo com'è questo questo mondo lavoriamo con il dispositivo fisico concreto e noi rascriviamo questa realtà che in iugno e in iugno 2023 è stata un'esplosione necessario di sublitenziore e la gente è stata una concentrazione in materia e la vita che la gente è stata una concentrazione e è stata una putt vecchia e scessiva la vita quindi per esempio ci concentriamo sull'immagine del dispositivo sul dispositivo stesso e quindi il nostro obiettivo è che noi vediamo per esempio che nel giugno luglio 2023 è stato raggiunto il numero necessario degli accordi conclusi per l'utilizzo del dispositivo per K1U e vediamo così che grazie a questo l'umanità è arrivata al nuovo livello e così vediamo che così l'umanità è arrivata al livello dello sviluppo alla via di sviluppo eterno e così vediamo anche che grazie a questo viene creato anche il sistema di notifica globale che per esempio informa le persone in tutto il mondo che il sistema di salvezza la via di salvezza si contiene nel programma del partito politico drug e vediamo anche che i media provvedono le informazioni vere e tutti i paesi del mondo si sono uniti per fermare il patto sulla soluzione pacifica delle situazioni di conflitto per neutralizzare qualsiasi di ogni persona di ogni essere umano e quindi noi percepiamo questa felicità del mondo e quando la percepiamo dobbiamo sentire la gioia con l'anima così percepiamo questa felicità del mondo e poi vediamo anche il nostro obiettivo di controllo in queste felicità del mondo per esempio vediamo il nostro controllo che si è sviluppato in un modo infinitamente positivo potete anche vedere che anche voi vi sentite nel modo infinitamente positivo e che c'è anche la felicità di ogni altra persona in questa felicità universale una cosa naturale una cosa naturale per voi finita questa cosa non sarà una percezione assolutamente naturale alla quale siete abituati per voi e ora prendiamo l'immagine della piccola lente con l'obiettivo di nostro controllo realizzata in questa immagine e la stabiliamo nel punto della transizione dal quale le informazioni del mondo esterno entrano nella nostra percezione possiamo trovare questo punto sulla superficie esterna della sfera di un metro allora oggi mettiamo questa lente nel polo quindi basso della piccola lente scusatemi nel polo basso della sfera del diametro di un metro cioè è praticamente sotto i piedi noi quando esce un punto dove rispettare noi lo facciamo come insieme con il creatore come se lavorassimo con il creatore come se chiedessimo a lui a che livello possiamo lavorare con questi compiti se per esempio percepiamo questo punto nel polo per esempio più basso della piccola sfera scusatemi della sfera del diametro di un metro allora noi così immaginiamo che in questo modo noi sviluppiamo gli strati più sottosvilloppati gli strati più scuri per esempio della coscienza collettiva